Sono Marco Aurelio Fontana, bronzo olimpico di mountain bike a Londra 2012 e oggi tra gare, famiglia e business ho una vita veramente motivata. Sono in ufficio per business, ascolta hai portato tu i bimbi a scuola? Certo, certo. Ciao sweetie, buona giornata. Grazie a tutti. Tra 100 metri, svolta a destra e prendi via privata Giovanni Battista Giorgini. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Papà torna per cena! Ciao a tutti! Ciao a tutti!